Altro tipo di viburno, viburnum tinus, delle capre fogliacee, corteccia grigiastra, un po' più squamata nella parte umida. Foglie abbastanza piccole, lievemente dentate, appena più chiare nella pagina inferiore, rami non verdi, quelli giovani, assenza di frutti al momento, portamento albero di medie dimensioni, piccole dimensioni anzi. Qua c'è un altro viburnum tinus, varietà L puntato, ah no forse l'inneo, con foglie leggermente più grandi, anzi più che leggermente il doppio o il triplo, più chiare nella pagina inferiore. Questo affare che assomiglia ad un frutto di colore verde-viola. Ah, qua siamo però già ad un'altra pianta, forse un altro viburno. Ok, Zagre Botanical Garden, agosto 2011.